La Direzione Generale dell'Asla di Teramo e i sindacati Cigelle, Cisle e Will si sono incontrati per avviare un percorso di condivisione sull'attività che l'Asla di Teramo ha messo in campo a salvaguardia della salute dei propri operatori sanitari e non impegnati nella gestione della pandemia da coronavirus. Argomento centrale della riunione, l'interesse comune è a proteggere in ogni modo possibile chi lavora in prima linea su questa emergenza. I sindacati hanno puntato il dito sulla paventata carenza di dispositivi di protezione individuale e più in generale sulle procedure attivate per la riduzione del contagio da covid-19 tra i dipendenti. La Direzione dell'Asla di Teramo ha riferito che ad oggi sono stati eseguiti 7.906 tamponi, di cui 2.500 sul personale sanitario, che rappresenta il 90% del totale Asla, e 127 sul personale dei servizi esternalizzati. I tamponi positivi sono stati 88, con una percentuale di positività nettamente inferiore al dato nazionale. I risultati dei tamponi si ottengono nel giro di 24-48 ore dall'esecuzione e nella procedura codificata dall'unità di crisi è prevista anche la ripetizione dell'esame sul personale sanitario. Per quanto riguarda poi l'ospedale Mazzini di Teramo in particolare, i rappresentanti sindacali hanno chiesto dati certi sul numero dei contagiati tra il personale sanitario, dopo giorni di polemiche, accuse e di pressappochismo da parte del sindaco d'Alberto e anche della Nao. La Direzione dell'Asla ha smentito che ci siano nuovi positivi tra gli operatori del Mazzini, anzi i numeri sono in miglioramento. I 67 positivi oggi sono scesi a 50, dopo la guarigione di 17 di loro, tra medici e infermieri. Inoltre, all'interno dell'ospedale di Teramo è stata rivista l'intera organizzazione, ad esempio dedicando sale operatorie esclusivamente ai pazienti Covid, così come posti di terapia intensiva post-operatorie di degenza, separandoli anche attraverso la costruzione di strutture murarie. Per quanto riguarda poi la disponibilità dei dispositivi di protezione per i dipendenti, l'Asla di Teramo conferma di aver proceduto all'acquisto del materiale necessario e che non sarebbe comunque mai mancato. La riunione si è conclusa con la previsione di un tavolo continuo di confronto tra aziende e sindacati, che permetterà un reciproco scambio di idee e di informazioni utili al fine di migliorare la gestione di questa emergenza sanitaria.